Questo video contiene alcune scende di violenza, se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione Riusciranno i nostri eroi a far uscire il video alle 16 quando sono le 11.30? Mission Impossible! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che si chiama GTA V? Ed è tornata anche la neve! Hai cambiato look? Sì, 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 mi sono dimenticata di dirtelo, scusami No stai, c'è buio, ti noti solo tu in tutta la città Sì, ovviamente prendo sempre i maglioni con luce perché io li adoro E se noti, non solo la felpa d'arena, ma anche le corna d'arena che si lumina Preferivo lasciar perdere Comunque, episodio importantissimo Voglio dire io Tra lo scorso episodio e questo episodio, poi te lo faccio dire a te Grazie Abbiamo fatto tanti soldi, siamo saliti anche perché io di livello Come vedete siamo arrivati a livello 25 Siamo a 250.000 dollari Voi vi chiederete, ma perché? Ma come mai? Feriniki dica Allora, oggi dobbiamo fare la cosa più importante di tutti gli episodi Ed è anche più importante di comprarsi casa È proprio un passo importantissimo Ok Perché oggi si realizzerà il mio più grande sogno Ok Ovvero aprire un club di motociclisti Sei contenta? Felicissima, felicissima Io nella vita reale vorrei troppo un club di motociclisti Cioè se io fossi uomo avrei un club di motociclisti, capito? Uno dei più grandi sogni che tu nella vita dici Sei cosa voglio fare da grande? Aprire un club di motociclisti Cioè è la cosa più normale E ovviamente poterlo fare su GTA è la cosa più bella del mondo Dai direi di comprarlo subito Che secondo me Prima di tutto dobbiamo comprarlo e sistemarlo Dopodiché ci sono le missioni varie che si possono fare con quel club Quindi oggi episodio a tema e tatuaggio a tema riguardo il club di motociclisti Dai con i motociclisti ne troveremo di fantastici per forza Cioè è super facile Comunque ti devo far notare una cosa Aspetta che scendo dalla macchina Se noti ho messo apposta un pigiama che far notare il mio tatuaggio Unforgiven Perché ancora qua non ti ho perdonata del tutto No non ci devi provare Diciamo così Se non mi perdonire mi ha sottottenuto io Vai 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 Per comprarlo dobbiamo andare qui Li abbiamo già guardati ieri mentre stavamo finendo di farmare i soldi E ci siamo accorti che una cosa fantastica è che ci sono due club nella nostra bellissima cittadina preferita Io direi di comprarlo là Quindi ce lo compriamo qua così proprio usciamo di casa Abbiamo parrucchiere, possono comprare le armi, quello per i tatuaggi, quello per i vestiti E il nostro club per i motociclisti Meglio di così Meglio di così non si può Quindi ne abbiamo due Abbiamo il Clubhouse Paletto Bay che costa 242.000 Quello che costa di meno E poi abbiamo il Clubhouse Paletto Bay Sono due numeri civici diversi Ah ok però è la stessa via Che costa 250.000 Io direi di decidere in base a questa immagine Quindi io preferisco o questo O questo Allora costa un po' di più ma secondo Quello è il club per motociclisti Cioè per eccellenza proprio Anche secondo me Totalmente Totalmente Adesso possiamo diciamo personalizzare il nostro club di motociclisti Qua abbiamo i vari murali Il problema è che guardate quanto costano C'è tipo aggiungi questo 100.000 in più Siamo poveri Quindi lasciamo quello base Ok poi è molto bello quello base Sì Quindi direi che come inizio va bene Poi penso si potrà modificare una volta che lo compri no? Esatto Qua se noti Vedete questa immagine Cambiano le cose E cambia totalmente l'arredamento Quindi si possono fare delle figate pazzesche Facendo cambiare tutto Però anche qui costa troppo E quindi rimane così Nome è club Allora E tu all'onore Non lo so faccio schifo 15 caratteri 15? Sì Eh sono pure tanti Vai E alla fine è venuto in mente a me I boss della strada Approvato da Ferenichi Vai I boss Che brutto che risolta Facciamo così va Della strada Vai Tutto attaccato lo devi scrivere? E anche così non ci sta Ma hai messo anche la I? Sì Allora leva la I Mi si è piaciuta I boss della strada Ok Quindi possiamo scegliere un font Eeeh Quello era bello Il 5 giusto? Aspetta che non li vedo bene Fammi rivedere Questo No è troppo No Mmm Vai 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 Questo Questo è perfetto No non mi piace Dannazze Quindi questo? Questo sì Guarda è super temato Colore Andiamo di rosso? Rosso sì dai O blu Eh rosso dai Rosso Rosso ci sta tutto Poi armadietto armi E costa 320 mila Mentre l'officina Costa 530 mila No per ora Niente armadietto armi Niente officina Vado? Abbiamo i soldi contatti Vado? Vai Acquisto in corso Congratulazioni per l'acquisto Della tua nuova club house Mi ha buttato fuori Ho notato Infatti ho detto Perché sei uscito dal gioco? Eh già Grazie GTA Eccolo Vedi? Questo? Sì Andiamo Vieni dentro Vieni dentro E mi devi invitare Mi devi invitare Io non vedo niente per poter entrare Entra con amici e compagni di crew vicini Ok Perfetto sto caricando Sto caricando Uuuu No aspetta No 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 Non potete venire Questo è il nostro posto Io non ho invitato nessuno Finalmente mi ha lasciato in pace Aspetta aspetta Penso di poter salire Perché io penso di essere Sponata sotto Capito? Nel garage Eccomi Oh mio dio Questa è casa mia Questa è casa mia Oh che bello il murale Dai anche se era gratis È fighissimo Che bello Aspetta Eh ma ci sono un sacco di cose Tu chi sei? È bellissimo Vattene Vattene Non dar fastidio Allora nessuno ti ha invitato Ci serve una persona che serve No servo io Se ne vai servo io Ma dai ma non puoi fare quello come lavoro Dai su Sì invece Tu devi picchiare la gente Fare missioni Allora facciamo una cosa Allora ti devi spostare No sto voglio un drink Eh esatto Mi devo far servire un drink Vai Se è buono può rimanere Ok Se non è buono la uccido Va bene Vai Ok vediamo Mi godo la scena Vediamo Cosa mi stai servendo Quella è tequila No secondo me è whisky Vai Eh vabbè ma te il tuo baby Proprio neanche te la sapori Che dici? Com'era? Allora Sì Fammi camminare Sì dai ci può stare Non sei molto brava ma ci può stare Eccoci qua Quale missioni vero? Quale missioni? Credo Mi dovrebbe comparire un tasto Per accedere alle commissioni della clubhouse Devi essere il presidente di un motorcycle Prima in via per fondare un MC Vai Sei diventato il presidente dell'MC boss della strada Ok Voglio essere io il boss della strada Seguimi Perché l'hai comprato tu? L'avrei dovuto comprare io? Questo è mio Perché se nei consolini non potevano vedere nulla Eh questo è bellissimo Questo è da Questo anche Questo? Questo è da motociclista Ok Un motociclista Completo 1 Completo 2 Completo 3 Questo Sì questo Ma è bellissimo Lo voglio anch'io Muoviti a dare i miei poteri Che sto facendo Sono bellissima Sono bellissima Oh mio dio Vabbè Fantastici Siamo davvero fantastici No vabbè si vedono tutti i tatuaggi adesso Finalmente Finalmente si vedono Finalmente Tranne quello della schiena Però si vedono tutti Si vedono tutti Adesso vorrei Poterti un attimino Dare dei poteri Esatto Sì Sei diventata vicepresidente Allora andiamo a vedere Andiamo a vedere le nostre foto adesso finalmente Era la prima cosa che volevi fare Eh certo Guardaci Vedi che c'è presidente e vicepresidente E poi sottoposti Bellissimo Siamo troppo belli Bellissimo Siamo troppo belli Adesso dobbiamo andare ad utilizzare il portatile Che ci dovrebbe permettere di fare cose belle Ok Mi sono connesso Si chiama The Open Road Ok The Open Road Vai Non ho idea Allora vendono tutto E ci sono case e cose varie Documenti falsificati Quindi credo che tu ti compri un ufficio di documenti E falsifichi i documenti Li vendi e guadagni soldi nel tempo Ok Poi abbiamo erba Abbiamo tutti i tipi di droga Perché li leggo già da qui E le banconotte Banconotte contrafatte Mentafetamina E cocaina Quindi secondo me Partiamo di documenti falsati Che infatti è quello che costa meno 650 mila Lo so che non ci si può vedere andare in giro in macchina Quando siamo parte di un motocycle club Però Abbiamo una moto Siamo poveri E non ci possiamo permettere la moto Magari ti regalo una moto No? Non si può fare Non credo Comunque Dobbiamo andare ad eliminare dei bersagli A 6 metri Cioè 6 metri 6 chilometri da qui Sembra una figata La nostra prima missione Sono super emozionato E stavo pensando Che se queste missioni pagano bene Utilizziamo tutti i soldi Che guadagniamo Per comprarci la nostra prima moto Per essere ancora più membri Di questo motocycle club Devo dire una cosa Sì Stai seguendo la strada sbagliata Non è vero Sì c'è quella gialla e quell'arancione Gli ho messe Io ho quella gialla e quella viola Ah ok E l'ho messa io la viola E va nel stesso punto della gialla Facciamo che arriviamo Disoppiatta Disoppiatto Ok È troppo emozionato ragazzi Un'arma è disponibile nelle vicinanze Utilizzala per guadagnare più denaro Allora aspetta Allora che dobbiamo fare Perché io non vedo i tuoi obiettivi Quindi non so che dobbiamo fare Nasconditi dietro questo muro Ok Cerco di andare di nascosto qua Ci sono delle persone lì Che ci potrebbero vedere Ci hanno messo praticamente Un'arma da qualche parte Da raccogliere E se emozioniamo il bersaglio Utilizzando quell'arma Veniamo pagati Tutti i soldi Che ci devono dare Ok Se invece utilizziamo le nostre armi Non veniamo pagati Quanto dovremmo Ok Ho capito Vieni qua dove sono io adesso Ok È libero Vieni vieni Sì 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 Il bersaglio credo che sia qui dentro Ok Ok Quindi dobbiamo riuscire Ad entrare dentro questo locale Allora sto controllando Vieni 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 Ci sono sì È pieno di persone fuori Oh cavolo Che facciamo? Io non vedo Ripeto non vedo obiettivi Non vedo niente Quindi cosa sono qui davanti? Allora Ascolta me Il bersaglio credo che sia Quelli i più vicini che abbiamo Ok Però qui ci sono tre persone Un po' più distanti Io punto a quelli vicini E cerco di ammazzare il bersaglio Con l'arma che ci hanno dato Tu con la mitraglia Mi copri con quelli lontani Ok Spero di aver capito Quelli lontani sono quelli nel muretto? Sì Quelli là Vado Ok Ok Vai Boom Ma forse questi non c'entravano nulla No Eh vabbè È andata così Vieni dentro il bar È andata così Mi dispiace Ho donnazione Sono armati Ok Attenta 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 Sì 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 Ci sono Ci sono Ecco vedo il bersaglio Qual è? Quello con Eh da me una freccia Ucciso 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 Uccisendo un bersaglio con l'arma corretta Terai l'intera ricompensa L'utilizzo dell'arma corretta Sarà indicato da un cerchio rosso sbarrato Sul contattore dei bersagli Ottimo proprio quello che il dottore aveva consigliato Ok Ok quindi ci sei riuscito Sì ci manca l'altro bersaglio Ok dov'è? È lontanissimo Andiamo Abbiamo nove minuti per farlo 500 metri Non vedo l'ora Aia Non vedo l'ora Sono prontissima Concentrata Io ho pure metà vita Sì Sono prontissima Non mi ero accorto Aspetta che mi mangio qualcosa Ma mangiate qualche snack Ci vediamo Snack Coca Cola Ok Ci sono Ci sono Ci sono Non ho idea di che cosa dobbiamo fare adesso Ammazzare un altro bersaglio Però che stavolta hai notato dov'è? Nel golf club Quindi è un riccone Eh può essere È un riccone Prima erano le bettole Ora siamo nei posti più lussuosi Allora Ok Ok Che bello sto club però L'arma Un po' mi dispiace In questo caso devo utilizzare l'arma di prima Secondo te? No una mazza da golf Cioè l'ultimo dici Come facciamo a eliminarlo con una mazza da golf? E dove la troviamo la mazza da golf? Scendi e ammazziamo le guardie del corpo Ci sto Ci sto Ci sto Allora Quello del bersaglio lo dobbiamo ignorare Dimmi che lo vedi bersagliato stavolta Eh certo sì Questa era la mia parte di missione Quindi lo vedo perfettamente Eh le guardie del corpo dove sono finite? Ok ne vedo una Sta arrivando Con la mazza da golf Ti vuole picchiare Ti vuole picchiare Vabbè lo schivo Cioè sinceramente È proprio ridicolo Allora aspetta 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 Se lui stava giocando qui a golf C'è sicuramente una mazza Una mazza in più c'è di sicuro Se ti muovi a trovarla mi fai un favore Perché in questo momento Mi sta inseguendo Dai 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 Ti prego datemi una mazza Dov'è? Dov'è? Aia Non la trovo Cioè qua ce ne dovrebbero essere per forza Attentacela con te Uh aiuto Non ne ho preso per sbaglio vero o no? No Come la recuperiamo? Io non ero la più pallida idea Ah me l'ha segnata adesso Aspetta Salgo in questa macchina Allora aspetta Cerco di fare giro giro tondo No mi ha buttato giù Hey Hey Aia Ma ti sta prendendo Questa è la missione più ridicola Che si possa fare Ti è diventata una barzelletta Ma ti sembra Che il bersaglio ti deve prendere ammazzate Ma ti sembra Seguendomi tutto il tempo Ti metto anche in prima persona a spaccolo Perché lo stai misando? Vai Fatto Scusa un attimo Scusa un attimo Ecco grazie Mi ha fatto un po' arrabbiare Mi dispiace Missione completata Ma hai letto quanto ci ha pagato? No non l'ho letto 21.000 21.000 21.500 Bello Aspetta ci stacchiamano Missione conclusa gente Le ho trovate Queste sono quelle adatte al Motorcycle Club Cioè guarda questa meraviglia Non le trovate? Sono in Suterno San Andreas E un altro sito ancora E selezioni motociclette E qua si che si ragiona Allora pitra la lista Motociclette No no Sono troppo belle Però la lock XR È molto più a tema Dai sì Oh no Sì Dai andiamo Io me la prendo fucsia Io me la prendo Rossa Acquista Fucsia Fucsia sicuro Perché la voglio più Vuoi decidere dove spedirtela Seleziona il Clubhouse E così la troverei direttamente nel garage del nostro Clubhouse Ehi voi 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 due Vi volete unire al nostro club? Ehi È fatta apposta per gente come voi Ah guarda lì siete perfetti No Aspetta come mi levo quest'arma? Scusa non li voglio spaventare Come la butto? Non li voglio spaventare Ma secondo te questa gente si spaventa Eh sì Se mi vedono sì capito Ehi Guarda Ehi ti vuoi unire? Vuoi venire? È un bel club Vieni Abbiamo No 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 L'ho dovuto stendere Ce ne sono tanti picchiali Gli stavo rubando la moto Gli stavo rubando la moto Ottima idea Ottima idea Magari me la porto Perché me l'hanno fatto arrabbiare E cioè Gli voglio rubare la moto Magari se la portiamo in garage diventa nostra Rubagliela Rubagliela Arriva 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 Abbiamo fatto arrabbiare tutto il Club Ce n'è uno nascosto in una pianta Ok scappiamo Cioè Non erano molto Molto socevoli O propensi E noi gli abbiamo rubato la moto Sai che cos'è? Che erano già in un altro club di motociclisti E quindi dici che Ognuno non può tradire il proprio club Si sono offesi Quando noi gli abbiamo offerto di abbandonare loro Perché ho detto che sono molto fedeli E quindi hanno iniziato a spararci Infatti in tutta la risposta Noi gli rubiamo la moto Tu non hai visto come ho steso il primo Gli ho spaccato la mazzata da golf in testa Eccola C'è? Sì guardala È rossa? È bellissima Oh ma che bella Vengo a prenderti Vengo a prenderti Ok aspetta Così mi vedi puoi uscire dal garage E' una figata È troppo bella È bellissima È troppo bella È troppo bella Sono troppo emozionata Andiamo al club No l'abbiamo scelta bene per 15.000 Ma che è il club? Doviamo andare a farci il tatuaggio Hai ragione Io volevo poi parcheggiare il club Sì andiamo a parcheggiare Ma prima ci facciamo il tatuaggio Sì ero talmente emozionata per la moto Che mi sono scarrata Della parte più importante A avere il tatuaggio Esatto Cioè non possiamo dimenticarcene Mai e poi mai No assolutamente Allora quindi qui Scendiamo Buongiorno Siamo pronti? Ti sto aspettando Io sono pronta col tatuaggio selezionato Spiena Pa 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 Guardate qua Libertà e cioppere Esattamente la moto che ci siamo comprati È perfetta Per una volta abbiamo trovato il tatuaggio Totalmente azzeccato Perché a volte li dobbiamo un po' riarrangiare Invece questo è perfettissimo Sei pronto? Andiamo Compra Fatto Oh mio dio che bello Che bello E ora la spiena Stiamo diventando bellissimi Non credo che ci stiano altri tatuaggi Sarebbe figo averne anche un terzo Chissà se ne avremo la possibilità Magari qualcosa che ci sta senza togliere gli altri Non lo so Dovremmo guardarli tutti Dovremmo poi controllare Comunque siamo diventati figli E vabbè abbiamo ancora tutto un altro braccio Due gambe Le ostore Stiamo proprio tranquillissimi Non c'è problema Allora saliamo di nuovo sulle nostre moto Andiamo a parcheggiarle E ci fermiamo così per questo video Forza 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 Ed eccole qui parcheggiate Sono un po' distanti Me le aspettavo più vicine E vabbè le ho messe così Però l'importante è che ce le abbiamo qua Per le prossime missioni Esattamente Sono proprio felice Ci siamo aperti il motorcycle club Ci siamo vestiti totalmente a tema Abbiamo la nostra moto personale Per quando facciamo queste missioni Abbiamo anche Cos'altro abbiamo fatto? Il nuovo tatuaggio E c'era anche un'altra cosa Ho fatto un sacco di Non mi ricordo l'ultima cosa La prima missione del motorcycle club Ah penso che l'avessi detto Non l'avevo detto Ti stavo ascoltando molto Stavo guardando ancora le nostre moto Quindi Episodio davvero fighissimo Una figata pazzesca Sono felicissimo Delle cose che abbiamo fatto Prossimo episodio Ci spariamo un sacco di missioni Perché dobbiamo aumentare La reputazione del nostro club Bisogna iniziare A farlo temere In tutta lo santo Assolutamente Magari Se abbiamo altre Due o tre persone Qualche consolino Che si unisce Faremo ancora più paura Però Anche in due Ce la caviamo bene Secondo me Con la massa da golf Lo abbiamo dimostrato Ma poi questi vestiti Esatto Facciamo paura Solo a vederci Siamo cattivissimi Bene che si riesce così Se ci lasciateci un like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare La idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima